Estro, fate mettere tutta la sciacqua del Bari in tasca, perché noi le vediamo tutto. Basta. Rispetto per la nostra città. Buono. Grazie. La sciacqua del Bari, chiamiamo l'acqua. L'acqua, c'è qualcosa di acqua. Va bene, d'accordo. D'accordo, d'accordo. Va bene, d'accordo. Io non vengo la sciacqua del Torno a Bari. Va bene, d'accordo. Va bene, d'accordo. Postiamoci ragazzi, venite. Venite ragazzi. Andiamo, ragazzi. Ragazzi, non accettate la provocazione, ragazzi. Ragazzi, non accettate la provocazione. Spregnamente alcuni ragazzi tenono la sciarpa del Bari, a quanto pare qua il Bari non è accettata come squadra. La vostra è la provocazione. Non è la vostra, la collocazione. Non mi sapete mai permesso di dire a Bari, ma la sciacqua del Torno. Non è venuto. 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 Io continuo a ripetere, ma il calcio non era una cosa per divertimento. È diventato peggio della guerra. è venuto. Quindi ne ho cari a lei, mi raccomando. Non è venuto in questo video. E' venuto. Non è venuto. Non è venuto in questo video.